Mara Venier, fuori onda esplosivo. Nessuno se lo aspettava a Domenica Inn. Andatevene via e non tornate mai più. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Sei pronto per un backstage infuocato che ha fatto tremare persino i muri del celebre programma Domenica Inn? Mara Venier, icona della tv italiana, è stata protagonista di un momento così carico di tensione da far impallidire persino i più scettici. Ma cosa è successo di così clamoroso dietro le quinte di questa trasmissione amatissima? Tutto è cominciato durante quello che doveva essere un omaggio al Festival di Sanremo, un momento di leggerezza e spensieratezza. Ma il destino ha voluto diversamente. Un ospite, Dargen D'Amico, ha acceso la miccia con interventi su temi scottanti come l'immigrazione e l'accoglienza. Ciò che doveva essere un momento di pura arte si è trasformato in un dibattito politico acceso. La giornalista Cinzia Marongiu ha posto una domanda che ha fatto scoppiare la polemica, mettendo Mara Venieri in una posizione delicata. La sua risposta, carica di passione e convinzione, ha spinto la conduttrice a intervenire con fermezza, ma è stato il fuori onda a fare scalpore. Quando Veniera ha creduto di non essere più in onda, ha lasciato trasparire tutto il suo disappunto verso i giornalisti, promettendo di non farli tornare più. Un gesto forte che solleva domande sulla responsabilità degli artisti e dei media nel trattare argomenti delicati. Ma questo episodio non è solo una questione di cronaca televisiva. È un riflesso della complessità della società contemporanea, dove intrattenimento e impegno civile si intrecciano in modo indissolubile. La televisione, spazio di arte e vita, deve trovare un equilibrio tra leggerezza e consapevolezza.